Sono Don Sergio Massironi del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Oggi parliamo di teologia. Già nominandola qualcuno penserà si tratti di un discorso complicato e proprio questo è il suo problema. In realtà nella vita di cose difficili ce ne sono naturalmente. Non tutto può essere facile ma anche ciò che non è facile può essere detto in modo semplice. I piccoli di cui oggi vorrei parlarvi sanno cogliere cose difficili ed esprimerle in modo semplice. A dire vero sono così anche i veri grandi. Nel mondo antico questa si chiamava sapienza. Sapere, avvertire delle cose non solo le misure ma il sapore. La teologia per fare il suo servizio alla fede non basta che sia una scienza, deve essere una sapienza. Il suo compito è portare i pensanti a essere credenti e i credenti a rimanere pensanti. Pensante è una persona che si fa delle domande e così sviluppa un'apertura verso ciò che legge, ciò che ascolta, ciò che incontra, ma non un'apertura passiva. Il suo cuore e la sua mente interagiscono con ciò che vede e sente. La realtà ti viene incontro nella misura in cui tu le vai incontro. Sorge così anche la fede, ce lo raccontano tutte le pagine dei Vangeli, le grande storie raccontate nella Bibbia. Storie complicate, piene di drammi, di contraddizioni che fanno sorgere tante domande su Dio ma anche fanno intuire tante domande di Dio. I protagonisti di queste storie reagivano, pensavano, stavano in piedi davanti a Dio stesso. Papa Francesco chiede alla teologia con grande forza di cambiare direzione, di non essere cioè più quella complicata trattazione di problemi che nessuno nella vita si pone e che dividono i religiosi e gli accademici infazioni separandoli dalle grandi sfide del popolo di Dio. L'umanità intera ha bisogno di un pensiero vivo che nasca da ciò che Dio vuole farle conoscere di sé. E come si ricomincia allora? Da dove si ricomincia? Il Papa dice a tutti, quindi anche a noi teologi, dai margini, dai poveri. Dal Vaticano guido un programma di ricerca che si intitola Fare teologia dalle periferie esistenziali. Per realizzarlo abbiamo dovuto lasciare per un momento i libri, le università per andare in quelle parti delle città che la Chiesa stessa fatica a raggiungere. 40 città del mondo per cominciare, capite? Una novantina di teologi fra i carcerati, le prostitute, i senza fissa dimora, i disoccupati, i migranti bloccati alle frontiere e anche tra coloro che non abbiamo mai ascoltato a sufficienza nel pensare la fede, a tante madri lavoratrici, insieme a persone LGBT, agli anziani dimenticati, alle persone con disabilità. Che cosa sanno di Dio? La sorpresa è stata e credo continuerà a essere enorme. I teologi dovranno poi tornare ai libri, alle università naturalmente, ma lo shock, la commozione, la scoperta di questo cristianesimo della strada o nella vita cambia le domande, dona nuovi linguaggi al pensiero. Soprattutto però la storia biblica, quella che in Gesù ha il suo culmine, viene riletta così in tante storie contemporanee, personali e ritorna finalmente viva e allora quella storia che chiamiamo storia della salvezza ricomincia a illuminare il mondo così com'è. Lo contesta, ci domanda dove stiamo correndo, mette in moto l'immaginazione di altri mondi possibili. La realtà, ci ha insegnato Papa Francesco, si capisce meglio dalle periferie. Questo è il senso più profondo della vicenda di Gesù. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra angolare e allora teologi o non teologi, credenti o non credenti, possiamo da subito dare credito a questa ipotesi e provare cambiare prospettiva.